Buon compleanno Unix Allora, cominciamo a dire buon compleanno Unix. In realtà è una cosa abbastanza scontata. Siamo in una festa di compleanno, quindi stiamo facendo gli auguri di buon compleanno. Ma a chi esattamente? Chi è il festeggiato? Immaginate di essere invitati ad una festa di compleanno. A me succede con i compagnetti dei miei figli. Arrivi alla festa di compleanno e non sai chi è il bambino che ti ha invitato. Letteralmente non sai chi è il festeggiato. Chi è il festeggiato qua? Immagino che tutti sappiate chi è il festeggiato, no? No, non è così semplice. Perché dire buon compleanno Unix non è una cosa scontata. Perché Unix in realtà ha tante accezioni. Ne vedremo alcune. Sicuramente Unix è un sistema operativo che è stato sviluppato dai laboratori Bell della TNT, l'azienda telefonica che gestiva la rete telefonica nazionale negli Stati Uniti. È stato sviluppato tra il 69 e il 1992 in AT&T Bell Laboratories. All'inizio funzionava su delle macchine digital, prevalentemente PDP11. È stato portato su un sacco di altri sistemi. Era dato in licenza a università e reseller, quindi rivenditori che potevano fare le loro versioni e rivenderlo ad altri. Ma di fatto questo sistema operativo non viene sviluppato più dal 1992 quando è stata rilasciata l'ultima versione da Bell Laboratories che è System 5 Release 4.2. Quindi questo sistema operativo non esiste più praticamente e molte delle architetture su cui funzionava sono architetture estinte. Immagino che molti di voi non abbiano mai sentito parlare di InterData, magari qualcuno ha sentito parlare di Alpha o di RISC o di PowerPC, ma per molti di voi Motorola 68000, Spark, etc. o Alpha sono architetture sconosciute. Sono tutte estinte. Per alcune esiste ancora supporto, ma non esistono più. Quindi probabilmente non parliamo di questo Unix, perché è arrivato mal che vada a 23 anni, non a 50. Unix è anche un marchio registrato. È un marchio registrato inizialmente dalla TNT, ovviamente. Quando la TNT ha smaltito la linea di prodotto Unix, questo marchio è andato prima a Novel, poi a un consorzio che si chiamava Xopen, successivamente a The Open Group, prima Santa Cruz Operation, poi The Open Group. Ma di fatto questo The Open Group attualmente vende dichiarazioni che il vostro sistema sia Unix compliant, se pagate una ingente quantità di denaro, nell'ordine di decine di migliaia di dollari. Attualmente alcuni sistemi che sono certificati Unix sono sistemi che non esistono più, che non sono sviluppati correntemente. L'unica eccezione è quella di MacOS, dell'Apple, ma gli altri sistemi di fatto non esistono più, se non soltanto supportati su installazioni esistenti. Ma Unix non è soltanto una questione di soldi. Un'altra eccezione di Unix è l'interfaccia messa a disposizione dal kernel. Sostanzialmente chiamiamo Unix una serie di più o meno definita di chiamate di sistema che forniscono un'interfaccia standard, passatemela, per accedere all'hardware, quindi alle risorse del computer, memoria, disco, dispositivi che sono connessi al vostro computer, eccetera. Ed è un sistema di chiamate, di funzioni, che ha come principio unificante il fatto che tutto è considerato un file. Quindi qualunque tipo di informazione viene trasmessa in maniera sequenziale. Senza nessuna organizzazione logica il sistema operativo non sa cosa c'è dentro il vostro file e non gliene frega nulla, by design. Il problema è che il set di queste chiamate di sistema non è per niente standard. Nel sistema iniziale, come nato 50 anni fa, ce ne erano una quindicina. Nella prima versione rilasciata ce ne erano 35. Nelle versioni UNIX attuali o UNIX live attuali ce ne sono diverse centinaia. Linux ne ha circa 350, molto più di 350. FreeBSD attualmente ne ha circa 420. Quindi parlare di UNIX in questo senso, come un cinquantenario che esiste da 50 anni e esiste ancora oggi, probabilmente è sbagliato come considerare il trademark o il sistema operativo in sé. UNIX è una filosofia ed è anche una filosofia su come si può fare computing. Ed è una filosofia che si basa su dei principi abbastanza semplici. Il primo è il cosiddetto KISS. Mantieni le cose semplici in qualunque situazione. Scrivi programmi che facciano una sola cosa e la facciano bene. Scrivi programmi che siano piccoli. Fai in modo che i programmi possano interagire facilmente, mediante il concetto di filtri e pipe che vedremo fra un attimo. Utilizza il testo come input e output ai tuoi programmi. Quindi fai in modo che i programmi possano leggere input e scrivere in output testo. Questo è un concetto molto importante. Preferisci portabilità rispetto all'efficienza. Quindi prima la portabilità, l'efficienza successivamente. Questo è un altro concetto molto importante che purtroppo non esiste in molte teorie di software engineering. Che consiste nel prototipare prima di ottimizzare. Quindi evitare l'ottimizzazione precoce perché molto spesso è il killer di molti prodotti. E se non sai cosa dire, rimani in silenzio. Che è una regola d'oro che tutti i programmi Unix dovrebbero seguire. Se c'è qualcosa che è rimasto immutato in Unix negli ultimi 50 anni, è proprio questo set di principi su cui il sistema si basa. Ed è proprio questo set di principi che questo talk parla. In particolare vedremo come sono nati questi principi e come si è sviluppato questo sistema ideale di regole per creare un ambiente operativo che durasse in qualche modo, in qualche forma per 50 anni. Considerate che 50 anni fa non esisteva praticamente nessun computer a microprocessore. Stavano cominciando ad essere prodotti allora. Quindi stiamo parlando non di un'era, non di due ere, ma stiamo parlando di sei o sette ere fa. Nonostante questo, questo insieme di regole è rimasto pressoché immutato nel tempo. E quindi parleremo di Unix e parleremo della storia, dei miti e delle leggende di questo sistema operativo. In particolare ci concentreremo in maniera più accurata sui primi 10-15 anni di storia di questo sistema e poi andremo un po' più veloci successivamente. La prima cosa più importante da considerare è che il tempo in ambiente Unix si misura in secondi dal 1 gennaio 1970 a mezzanotte. Quindi per noi il tempo sarà in secondi da allora, da ora in poi. Quindi tutte le date saranno riferite alla Unix epoch. Questa qua non è soltanto un epoch Unix, questo è il modo in cui tutti i sistemi operativi attuali rappresentano le date. Questo è il motivo per cui nessun sistema Unix ebbe nessun problema con il cosiddetto millennium bug, ma voi siete troppo giovani per ricordarvelo, ve lo dico io, leggete su Wikipedia. Ok, 100 milioni di secondi prima dell'era Unix, intorno al 1967, MIT, AT&T e General Electric decisero di investire risorse per creare un sistema time-sharing. Avete idea di cosa sia un sistema time-sharing? In sostanza un sistema in cui tutti gli utenti, tutti i programmi che accedono alle risorse, hanno l'impressione di avere tutte le risorse a disposizione. Questo è un concetto assolutamente banale. Ah, quelli sono fatti vostri. È un concetto banale oggi, non c'è neanche bisogno di dire che un sistema attuale è time-sharing, ma allora non era così per niente, perché il flusso normale di utilizzo di un computer era creare un set di un batch di schede perforate da inserire in un lettore, e aspettare che questo programma venisse eseguito e tornare magari l'indomani a ritirare i risultati. Quindi ovviamente gli utenti non avevano l'impressione che le risorse fossero del loro, perché sapevano che il loro job era allocato dall'una alle due di notte, mentre gli altri aspettavano. Oggi è normale avere dei programmi che possano interagire sullo stesso processore e sulle stesse risorse, ma allora non lo era per niente. E quindi questi tre colossi si misero insieme per creare un altro colosso, un tricerato poi in questa rappresentazione, che si chiamava Multix. Multix sta per Multiplexed Information in Computing Service, che è appunto questo sistema operativo time-sharing, e investirono una quantità spropositata di milioni di dollari per creare questo sistema. Questo sistema avrebbe dovuto girare su delle macchine General Electric che erano enormi per l'epoca, delle macchine con più di 2 MB di RAM. Vedremo che questa cosa, diciamo, c'è un paragone interessante con quante risorse utilizzava Unix nelle prime versioni. Il progetto sostanzialmente a quello stadio quasi fallì, quasi miseramente, nonostante Multix continuava ad esistere fino alla fine degli anni 90. A un certo punto AT&T si tirò fuori. Disse non voglio più avere niente a che fare con Multix, sta costando un sacco di soldi. I risultati che abbiamo sono decisamente non quelli che ci aspettavamo, continuate pure. Non ci interessa la storia di Multix, anche se è un altro capitolo abbastanza interessante. E quindi quello che successe è che nel 1969 i ricercatori Bell di Bell Labs che lavoravano su Multix si trovarono senza progetto a cui lavorare e senza un sistema operativo time sharing. In particolare uno di questi era Ken Thompson, che è probabilmente uno degli hacker più dotati che abbiamo visto negli ultimi 50 anni. Ora capite perché. E in pratica a Ken Thompson e ad altri due, a Dennis Rich e a Rudd Cannaday, che erano parte dello stesso progetto, piaceva un sacco l'idea di avere un sistema operativo time sharing. Si erano quasi abituati a Multix, nonostante fosse inusabile da molti punti di vista. E avevano intenzione di ricreare questo ambiente multiutente e time sharing che avevano intravisto in Multix. Si sedettero alla fine del progetto, nonostante non essere più niente da fare su Multix, e discussero un prototipo di un sistema, di un file system gerarchico. Anche questo è un concetto che adesso è assolutamente assodato. Il file system gerarchico è un file system in cui i file sono tutti rappresentati mediante un albero. La radice, la root del vostro file system è il punto d'inizio, e tutti i file hanno un percorso all'interno di quest'albero. Poi in realtà ci possono essere cicli, eccetera, ma l'idea di file system gerarchico nasce praticamente con Multix. E loro dissero, beh, proviamo a implementare questo file system gerarchico, che era una delle novità dell'epoca. Ken implementò questo file system in un, come lui stesso dice, poorly used PDP7, una macchina che era già allora obsoleta. PDP7 è una macchina che è stata prodotta dalla Digital a partire dal 1963, nel 69 questa macchina era già obsoleta. Nonostante ciò, ce n'era una disponibile che non stava utilizzando nessuna, e Bell Labs, e Ken Thompson implementò questo file system gerarchico in relativamente poco tempo. E lui stesso dice, a un certo punto mi resi conto che ero a tre settimane da avere un sistema operativo time sharing completo. Qua si vede che sorta di hacker fosse Ken Thompson. Riuscire a vedere, a capire, che aveva per le mani un terzo, un quarto di un sistema operativo. Gli sarebbe bastato tre settimane, lui disse, per finirlo. Per fortuna suo figlio era nato sette mesi prima, e la moglie di Ken Thompson decide di portarlo dai parenti di lui in California, in visita. E quindi decise di passare un mese d'estate, tra luglio e agosto, sulla West Coast. Bene, Ken Thompson fece esattamente quello che voleva fare. In tre settimane, mentre sua moglie era in visita alla West Coast, scrisse in una settimana un assembler, in una settimana un editor, in una settimana una shell con un exec loop. Di fatto, in tre settimane, in quello che io definisco mythical man month, quindi un mese uomo vero, Ken Thompson creò la primissima versione di Unix. E quindi nel 69, grosso modo nel settembre del 69, nasce il sistema UNIX, UNICS, che sta per Uniplexed Information and Computing Services. È esattamente lo stesso acronimo di Multix, ma con un evidente gioco di parole che sostituisce mult con UN. Quindi nel 69, nasce questo primissimo sistema UNIX. Questa è una foto originale, riportata in ASCII Art, di Ken Thompson e Dennis Rich, vi farò vedere l'originale dopo. Che all'epoca zero, diciamo al secondo zero dell'epoca UNIX, cominciano a lavorare su questo sistema. Siamo quindi nel 1970, si rendono conto immediatamente che il PDP7 non è adeguato per quello che vogliono fare. Pochissima RAM, pochissime risorse, un sistema complicato da gestire. La digital aveva appena messo in produzione un nuovo minicalcolatore che si chiamava PDP11. E loro capirono che questo era assolutamente il computer che faceva per loro. C'era un solo piccolo problema. AT&T non aveva nessuna idea di spendere un dollaro in più in ricerca per sistemi operativi. Nessuna intenzione. E quindi il colpo di genio fu nel promettere a AT&T che avrebbero utilizzato il PDP11 per creare un sistema di processamento testi. AT&T Bell Labs aveva bisogno di questo sistema perché l'ufficio patenti e brevetti di AT&T Bell Labs, che produceva circa 400 richieste di brevetti all'anno, aveva bisogno di un sistema professionale per creare e gestire questi brevetti. Quindi appena dissero all'amministrazione vogliamo fare un sistema di text processing, immediatamente trovarono il quarto di milione di dollari che serviva per comprare un PDP11 e lo diedero a questo che diventerà UNIX Group, al gruppo 1127 o 1127 come sarebbe più corretto chiamarlo. In questi quattro anni, tra 70 e 74, succedono delle cose stupende. Mentre Ken e Dennis cominciano a lavorare su UNIX, ne parleremo tra un attimo, Ken in particolare si rende conto che la programmazione del linguaggio Assembler è problematica. Nonostante per lui non lo fosse per nulla, perché riusciva a fare cose in Assembler che altri semplicemente si sognavano. Però capiscono che l'Assembler è un limite. Ken aveva cominciato a lavorare su un linguaggio a bassissimo livello che si chiamava B. Dennis Rich nel 1972 comincia a sperimentare con un nuovo linguaggio che si chiamerà C, perché dopo B naturalmente viene C. E questo linguaggio crescerà assieme a UNIX e sarà utilizzato per reimplementare UNIX completamente in un linguaggio che non fosse l'Assembler. UNIX è stato il primo sistema operativo ad essere, non il primo sistema operativo ad essere implementato completamente in un linguaggio di alto livello, ma il primo sistema operativo ad essere implementato in un linguaggio di alto livello e ad essere portabile su un'architettura diversa da quella per cui era stato originariamente pensato. Questa cosa anche oggi è assolutamente scontata, allora non lo era per nulla, perché il sistema operativo veniva sviluppato dal produttore e venduto assieme alla macchina. UNIX sfada questo mito e lo sfaderà in maniera sensazionale, perché di fatto il PDP11 diventerà la macchina più venduta per i centri di ricerca tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, assieme ai VAX, UNIX diventerà il sistema operativo più utilizzato in questi sistemi e C diventerà il linguaggio di programmazione più utilizzato in questi sistemi. Tutte e tre assieme formeranno il backbone dell'internet primordiale, quindi niente è per caso. Nel giro di tre anni sono nate, a Bell Labs, tre idee, programmazione ad alto livello, sistema operativo UNIX e portabilità che saranno fondamentali per lo sviluppo di internet. Adesso una domanda per voi, altro concetto fondamentale. Qual è il singolo carattere sulla vostra tastiera che può fare la quantità più enorme di danno a un sistema UNIX? Qual è il carattere che, se non esistesse sulla vostra tastiera, spaccherebbe UNIX completamente? Pensateci. Avete qualche idea? Alzate la mano, non abbiate paura di dire qualunque cosa. Chiunque, dai! Come? Se non ci fosse, il vostro sistema UNIX non potrebbe funzionare. Probabilmente neanche partirebbe. Invio? No, non è necessario avere invio perché parta. Non è asterisco. No? Allora, il carattere più importante, l'haskey carattere più importante di un sistema UNIX è il pipe. Se non aveste pipe, molti dei vostri computer che girano su Linux, FreeBSD, MacOS, eccetera, neanche partirebbero. Perché è importante questo carattere, questa barra verticale? È importante perché rappresenta un concetto molto profondo che un altro padre dell'informatica e dello sviluppo di UNIX aveva già in mente dieci anni prima. Nel 64, Doug McRoy, che è il manager delle tre persone che sviluppano UNIX inizialmente, ha in mente un sistema di comunicazione tra processi, tra programmi, esattamente come i tubi di irrigazione del giardino. Lui dice letteralmente dovremmo avere alcune mani di comunicazione tra programmi, come il giardino e i tubi di irrigazione del giardino. Quindi metti un altro pezzo di tubo, quando serve, per gestire i dati, massaggiare i dati in maniera diversa. Nel 64, stiamo parlando di 60 anni fa, ormai 56 anni fa. Doug McRoy è ancora vivo, è vegeto, attivissimo sulla lista dei UNIX Heritage, ne parliamo tra poco. Bene, si mette a chiedere così insistentemente che questo sistema venga implementato, che Ken decide in una notte di implementare le pipe. Non come le aveva pensate McRoy, perché McRoy voleva che questo fosse un grafo completo tra tutti i possibili programmi che giravano in quel momento sul sistema, no. Ken capisce che la cosa importante è dare la possibilità all'output di un programma di essere utilizzato come input di un altro programma. In una notte, loro dicono in realtà, in un'ora implementò la chiamata di sistema nel kernel per fare la pipe, ci potete credere, se guardate il codice ci potete credere, e in una notte implementò nella shell i meccanismi per gestire le pipe. Questo è un report di Brian Kernighan, che è il Kernighan di Kernighan & Rich, che era nello stesso luogo, nello stesso momento, e che ha contribuito allo sviluppo di UNIX. E lui dice, quando Ken aggiunse la pipe system call e il sistema di gestione delle pipe alla shell, si accorse che il risultato era letteralmente mind-blowing. Era qualcosa di assolutamente potente, che permetteva di mettere insieme programmi che erano stati pensati per fare cose diverse. Bene, si mettono insieme Ken Thompson e Dennis Rich e in un giorno riscrivono o adattano tutti i programmi che giravano su UNIX fino a quel momento perché possono utilizzare le pipe. Naturalmente per poter utilizzare una pipe il programma deve stare, deve dare in output soltanto dell'output. Niente messaggi inutili. If not needed, just shut up. E deve essere in grado di gestire input che sia testuale e output che sia testuale. Bene, in una sola notte riscrivono dove serve quelle 40-50 utility, non in realtà non è necessario riscrivere, ma modifiano queste 40-50 utility e cominciano a giocare con le pipe e fanno delle cose meravigliose. Come per esempio utilizzare una pipe per leggere la data attuale, trasformarla in un testo e farlo parlare a una macchina di sintetizzatore di testo. senza scrivere una riga di codice in C. La pietra miliare. Allora, fino a quel momento, fino al 1973, UNIX è un progetto di cui sono a conoscenza esclusivamente i ricercatori di Bell Labs. Nessuno ne sa niente. Nel 1973, Doug Mcerroy e Joe Sana spingono Ken e Dennis a scrivere un paper per quella che diventerà una delle più importanti conferenze in sistemi operativi. E' mandare questo paper alla ACM, Systems and Operations Conference, qualcosa, allora si chiamava. Mandano questo paper. Il paper viene mandato nel 1973. Questa è la pubblicazione sul Communication of ACM del 1974 e questo è l'inizio, l'incipit del paper. Adesso non dice niente, ma nel 1974 un incipit che dice UNIX is a general purpose, multi-user, interactive operating system for the digital equipment corporation PDP 1140 and 45 computers era assolutamente ground breaking. Tutti stavano lavorando su sistemi operativi general purpose, multi-user and interactive. Tutti quanti. A un certo punto da Bell Labs arriva questo paper che dice L'abbiamo fatto. E' disponibile, sta girando, lo usano già in 25 utenti contemporaneamente. Considerate che su Multics 5 anni prima potevano lavorare contemporaneamente non più di 4 o 5 utenti. 5 anni prima, su una macchina che era molto più potente. Ken è una persona molto umile. Torno dal talk dicendo non è stato un gran successo probabilmente non ho fatto una buona presentazione. C'erano circa 200 persone nell'audience. Non fu affatto vero. Il talk fu un successo tremendo. Appena uscì dall'aula tutti volevano provare UNIX. In quell'aula naturalmente c'erano la maggior parte ricercatori e professori provenivano da tutte le università americane. Tutti chiamarono l'indomani Bell Labs per ricevere una copia di UNIX. C'è da dire una cosa. Bell Labs non aveva diritto di creare prodotti che avessero a che vedere con l'informatica. nonostante l'informatica non esistesse. Per ragioni dovute all'antitrust gli era stato esplicitamente vietato di entrare nel business dei computer. Quindi Bell Labs non aveva la possibilità legalmente di vendere prodotti che avessero a che vedere con i computer. Bell Labs doveva occuparsi esclusivamente di rete telefonica nazionale. Gli avvocati di Bell Labs misero insieme un sistema di licenza che permetteva alle università di ottenere UNIX per il pagamento simbolico di 150 sterline che coprivano le spese di gestione della richiesta. Per qualche migliaio di dollari potevate avere anche a disposizione tutti i sorgenti del sistema. Questa è la prima volta che un sistema operativo viene fornito con tutti i sorgenti, anche se dietro pagamento. Era una cosa che non esisteva fino a quel punto. Quello che succedeva è che ricevevate, se eravate una di queste università, una 9-track tape con su scritto Love Ken. Ken Thompson l'aveva letteralmente copiata dal sistema in uso e ve l'aveva mandata. Praticamente circa un centinaio di università americane ricevono UNIX nel giro di sei mesi. Tra queste ovviamente c'è l'università della California a Berkeley nel 1974. Questa era la policy di supporto di Bell Lab riguardante UNIX. Quattro punti. Non ditelo a nessuno. Vi stiamo fornendo del materiale che voi utilizzate solo per ricerca, non è un prodotto. Non c'è nessun supporto. Se volete, comprate i sorgenti e risolvete i problemi da soli. Non ci sono bug fix. Pagamenti in anticipo. Ok? Questa era la policy di Bell Lab. 1974. Nonostante questo, tutte le università americane e alcune europee erano ben felici di avere a disposizione un sistema operativo, time sharing, multiutente, multiprogrammato e interattivo, perché fino a quel momento non ce n'era uno che avesse tutte queste caratteristiche e che girasse su una macchina che fosse tutto sommato accessibile, un PDP-11. Accessibile significa che a quel punto i PDP-11 costavano circa 100.000 dollari. Ok? Fattibile per un dipartimento abbastanza grosso. Questa è una citazione, secondo me la più importante citazione di Dennis Rich, che dice Noi non volevamo semplicemente ricreare l'ambiente operativo di Multics. Noi volevamo un sistema operativo che creasse e favorisse la formazione di una comunità. Questa è la differenza fondamentale tra Unix e tutti gli altri sistemi operativi sviluppati tra la metà degli anni 70 e la fine degli anni 90. I sviluppatori di Unix non stavano lavorando sotto contratto. Non avevano nessun cliente da soddisfare. Non avevano nessuna deadline. Non avevano nessuna specifica. Non avevano nessuna restrizione in termini di tempo, soldi, risorse, niente di tutto ciò. Si sono concentrati esclusivamente sul realizzare un sistema che andasse bene per loro e che loro stessi utilizzavano. Non solo. Quindi gli sviluppatori erano gli utenti di questo sistema. Ma prestissimo gli utenti del sistema diventarono sviluppatori. Perché avendo a disposizione gli utenti di AT&T Bellab, avendo a disposizione i sorgenti, se tu avevi un problema, potevi benissimo andare a vedere, se trovi un bug, andare a vedere qual era il problema nel codice, ricompilare e modificare il programma presente sulla macchina su cui stavi lavorando. Questa è una cosa rivoluzionaria. Nessun sistema operativo l'aveva mai fatto. Loro lo mettono in pratica tra il 1970 e il 1974. Questo cozza evidentemente con la policy di supporto di AT&T. AT&T ha detto, non vogliamo che lo diciate a nessuno, pagamento in anticipo, nessun supporto, nessun bug fix. Come risolvere questo dilemma? Bene, gli utenti trovano sempre un modo. Il modo fu creare una fellowship of unix users, che inizialmente si chiamò unix user group. Ma siccome AT&T aveva il trademark su unix, io lo vietò immediatamente, questa fellowship si chiamò quasi subito unix, usnix. Usnix è esattamente quello che dice, l'insieme degli utenti, un user group per utenti unix. Nasce come una lista di sottoscrizione, cioè vi mandavate l'indirizzo reale del vostro dipartimento e ricevevate ogni mese uno stampato con tutte le notizie sul mondo Unix. Una fanzine prima delle zine, nel senso che era totalmente cartaceo. E grazie a questo sistema Usnix cominciò anche a distribuire delle patch create dagli stessi utenti. Molto spesso queste patch non erano create dagli stessi utenti, sviluppatori di AT&T che li facevano apparire su Usnix. Esiste una storia carina tra la versione 6 e la versione 7 di Unix, Ken e Danny si resero conto che c'erano diversi problemi nel sistema. Allora misero insieme un nastro con 50 patch e lo fecero trovare fuori dal laboratorio di Bell Labs, per strada. Si dice che qualcuno abbia ricevuto una chiamata dicendogli che esisteva un nastro con 50 patch di regarsi a tot punto e l'avrebbero trovato. E fu così. Nessuno sa chi lo mise lì. Ovviamente furono gli stessi hacker di AT&T. Non vi disturba se dico hacker, vero? No. Hacker va bene, hacker è buono. Ok, prossimo quinquennio, adesso andremo più veloci, tranquilli. Tra il 69 e il 74 vengono prodotte, tra virgolette, in realtà è una cosa assolutamente fittizia, vengono prodotte 5 versioni di Unix. Non è vero. Non viene prodotta nessuna versione di Unix. Quello che succede è che gli sviluppatori continuano a lavorare sul sistema che gira, continuano a fare modifiche, a un certo punto decidono di stampare il manuale del sistema attuale. Bene, il manuale riceve un numero di versione, versione 1, versione 2, versione 3. La prima versione del manuale fu stampata, fu, diciamo, fixata nel 1971. Quello è ciò che si chiama Unix versione 1. La seconda versione del manuale utente venne stampata nel 72, si chiamò Unix versione 2. Ma in realtà, come dice Ken Thompson in diversi punti, il resto del mondo funzionava, ragionava con le release di Unix. Per noi Unix era un continuum. Per loro non esisteva la release. La release che loro utilizzavano era quella che c'era al momento sulla macchina, quella che aveva ricevuto tutte le modifiche, le migliorie, eccetera. Tra il 74, che è la data del paper su CACM, e il 79, ci sono solo due versioni di Unix. Unix v6 e Unix v7. Queste sono le due versioni di Unix più importanti che siano mai state prodotte. E ora capiremo perché. Unix v7 è la versione più importante perché di fatto è il nonno di tutti i sistemi Unix attuali. Se vi sedete a una console di uno Unix v7, probabilmente potreste fare le stesse cose o quasi le stesse cose con gli stessi comandi che potreste fare su una console di un sistema operativo Unix-like attuale. Aveva circa 70 comandi, con utili di tutti i tipi, ne mancano alcuni, ma di fatto Unix v7 è il nonno di tutti i sistemi operativi Unix moderni. La cosa importante è che questo sistema operativo non è stato sviluppato solo da Dennis Rich e Ken Thompson. Per niente, loro hanno lavorato le prime versioni da soli, ma immediatamente gli stessi utenti sono diventati sviluppatori. E ce ne sono una carrellata che sono diventati parecchio famosi. Sicuramente i primi tre sono Alfred Howe, Peter Weinberger e Brian Kernighan. Sotto ho messo alcune delle utility che sono state scritte prevalentemente da questi tizi. Se mettete insieme le iniziali dei cognomi, ottenete Oak, che è il linguaggio di programmazione che questi tre tizi hanno sviluppato nel 1977. Queste sono solo alcune delle cose a cui hanno partecipato, perché di fatto la cultura era tale che chiunque avesse modificato un programma per ultimo di fatto era il proprietario di quel programma. Quindi se avete fatto una patch alla Shell, bene, la Shell diventava vostra. E se rompevate qualcosa naturalmente la responsabilità era vostra. Il prossimo che avrebbe fatto una patch sarebbe diventato il padrone virtuale della Shell e così via. Quindi tutte queste persone ebbero a che fare di fatto con molte parti del sistema operativo. Un'altra banda di persone che avevano una influenza notevole su queste prime versioni di Unix sono Joe Osana. Joe Osana era un manager del gruppo 1127 ed è quello che ha incitato gli sviluppatori nella maniera più persistente possibile, assieme a Doug McRoy naturalmente. Joe Osana morirà nel 1978 di infarto, ma prima di morire di infarto creerà Tiroff, che è lo stesso sistema che voi utilizzate oggi, ogni giorno, per invocare una man page. Ogni volta che scrivete man 9 di un comando state utilizzando del codice i cui algoritmi sono stati sviluppati da Joe Osana. Oggi si utilizzerà di una reimplementazione probabilmente, ma lui è l'inventore di Tiroff. Stu Feldman, un altro sviluppatore casuale a TNT Labs, che ha inventato Make nel 1975. Doug McRoy, che insieme alle altre cose ha inventato algoritmi per Diff, Join, Sort e moltissimi altri programmi. Lee McMahon, che ha inventato Zedd. Zedd è lo stream editor. C'è una storia interessante, ma non possiamo parlare di tutto. E poi ci sono altri tizi come Steve Bourne. Avete mai sentito Bourne come... BUSH non è sua, BUSH è Bourne again Shell, ma la Shell che scrisse Steve Bourne diventò la Shell di default di Unix v7. E soppiantò la Shell di Dennis Rich, che era la Dennis Shell precedente. Steve Johnson. Steve Johnson creò un sacco di utility, che ormai non si usano quasi più, per la creazione dei compilatori. Jack Lint lavorò all'ex altra roba. Scrisse il Portable C Compiler, che venne inserito nella Unix v7. Portable C Compiler è ancora sviluppato, oggi. La stessa codebase del 1976. Altro personaggio importante è Lorinda Cherry, che è una delle pochissime donne, purtroppo, che partecipò allo sviluppo di Unix, assieme a Nina... non mi ricordo il cognome, perdonatemi. Lorinda Cherry si occupò per lo più di utility per la creazione e la gestione di testi. Come per esempio Equation, lavorò anche a Table e altra roba, ma scrisse in collaborazione con altri anche BC e DC, che sono dei... DC sta per Desktop Calculator, è una calcolatrice in notazione polacca inversa, che immagino che pochissimi di voi sappiano esiste, ma c'è in tutte le installazioni Unix moderne. Questi comandi esistono in quasi tutte le installazioni Unix moderne. E poi Mike Lesk, che scrisse Lex Table e WCP, che è il protocollo utilizzato per Usenet. Ma questa è un'altra storia. Unix v6 viaggia per il mondo. È la prima versione, in realtà tra v5 e v6, sono le prime versioni che viaggiano per il mondo. Arriva, naturalmente, in US e in Canada, quasi immediatamente. Arriva in Europa. La prima installazione di Unix in Europa è del 1974 ed è alla Catholic University di Amsterdam. La seconda installazione è all'allora Queen Mary College of London. e la terza probabilmente è quella di Edimburgo. Arriva in Giappone e arriva anche in Australia. In un momento in cui per arrivare in Australia avrebbe dovuto fisicamente viaggiare su un nastro a nove tracce e essere portato da qualcuno con una valigia in Australia. E arriva in due posti, all'Università del New South Wales a Sydney e all'Università di New South Wales a Wollongong, che poi diventerà un'università indipendente. Perché è importante questa roba? Perché dall'Australia arriva un testo che diventerà fondamentale. John Lyons scrive nel 1977 il Commentary on the Unix operating system. Questo è un libro che è fatto da due parti. La prima parte è il codice di Unix, tutto il codice del sistema operativo Unix, circa 10.000 righe di codice. Dall'altra parte c'è un commento che vi spiega cosa fa ciascuna linea di codice del sistema Unix. Un lavoro bellissimo. Scusate, per me è un lavoro davvero bellissimo. E lui aveva intenzione di utilizzarlo come strumento didattico, per insegnare sistemi operativi ai suoi studenti. Questo libro ha un successo immediato. Il problema è che, prima del problema, una frase che passò alla storia di questo libro è un commento presente nei sorgenti di Unix. Questa è una parte del sorgente che si occupa di fare lo swapping tra due processi che stanno girando. E a un certo punto Dennis scrive se il nuovo processo si è fermato perché era stato swappato fuori dalla memoria. Allora set the stack level bla bla bla. Alla fine dice ok, you are not expected to understand this. che all'inizio suonò come una sorta di sfida. Ma in realtà era per dire questo non è nell'esame. E' talmente profondo, talmente legato a come funzionava il PDP-11 che se non lo sapete va bene lo stesso, nonostante avete il codice a disposizione. Voleva anche dire se non sapete cosa state facendo non toccate le sette righe di codice che sono qua sotto perché altrimenti il sistema non funziona più. Però tra V6 e V7 i termini di licenza stabiliti da TNT cambiano. Non è più possibile parlare apertamente del sorgente di Unix e questo libro, il commentary on the Unix operating system, diventa illegale nottetempo. Bene, gli utenti si sono organizzati e questo è diventato il libro più fotocopiato della storia dell'informatica. Avere oggi una fotocopia di seconda generazione o di terza generazione di questo libro si tratta di uno specimen abbastanza raro. Quindi tutti fotocopiarono il libro di Lions fino a quando alla fine del 2006, dopo 40 anni, dopo 35 anni a TNT si decise a dare la possibilità di ristamparlo. Quindi potete anche comprarlo online, ma allora l'unico modo per averlo era fotocopiarlo. Considerate che molte università rimasero a utilizzare Unix v6 perché avevano la possibilità di avere i sorgenti del sistema senza dover passare ai nuovi termini di licenza. Quindi per moltissimi anni, fino alla metà degli anni Ottanta, moltissime università continuarono ad utilizzare Unix version 6 sviluppato nel 75 perché avevano a disposizione i sorgenti e potevano farne quello che volevano. E questi anni vengono, secondo me, fino al 79, vengono riassunti in maniera eccellente da una frase famosa di Doug McRoy, che è appunto uno dei manager del Unix Group, che dice questa è la filosofia Unix, scrivete programmi che facciano una sola cosa e la facciano bene, scrivete programmi che lavorino bene assieme, scrivete programmi che gestiscano stream di testo perché questa è l'interfaccia universale. Questi tre principi hanno portato a Unix v7, hanno portato Unix su tutti i calcolatori di tutti i centri di ricerca del mondo entro la fine del 1980. Bene, a questo punto lo sviluppo del sistema operativo Unix da parte del gruppo iniziale finisce. E di fatto lo sviluppo del sistema operativo Unix e del supporto del sistema operativo passa ad un altro gruppo di AT&T che si chiama Unix Support Laboratory, che è gestito da altre persone, fa altre cose. Questi hacker che avevano fatto Unix continueranno a sviluppare Unix v7, ci sarà una versione 8 interna, una versione 9, una versione 10 che sarà rilasciata, tra virgolette, sempre versione del manuale nel 1992, ma questi sistemi non verranno mai distribuiti all'esterno. I termini di licenza sono cambiati, stanno cambiando un sacco di cose come vedremo. e AT&T ha deciso di farlo diventare, deciderà presto di farlo diventare un prodotto. Quindi Unix v7 è l'ultima versione di Reserci Unix disponibile al mondo, all'esterno. Tra l'80 e l'84 entra in gioco una banda di hippie, una fenomenale banda di hippie, che in qualche modo prende in mano lo sviluppo di Unix. Ed è la banda di folli, per lo più studenti di master e studenti di dottorato all'Università della California Berkeley. Praticamente Berkeley riceve Unix v4 nel 1974 e gli studenti cominciano a giocarci. Giocarci significa che cominciano a programmare, a cambiare, a rompere. In particolare un paio di studenti, tra cui Bill Joy e Chuck Haley, scrivono un compilatore Pascal per questo sistema. Allora si pensava che il Pascal sarebbe stato il linguaggio del futuro. Per fortuna avevano torto, perdonatela. No, per molte ragioni avevano torto, ma comunque scrissero questo compilatore Pascal. Ma molte università utilizzavano Pascal come linguaggio per insegnare informatica ai loro studenti. Bill Joy scrisse anche l'editor X, che è un'estensione dell'editor di Ed, l'editor originario scritto da Ken Thompson. Su questo c'è una storia interessante perché X è un editor che non viene direttamente da Ed, ma viene da Queen Mary. Se poi volete sapere di più, ne parliamo. Quindi l'università volevano un compilatore Pascal. Bill Joy ha preso il compilatore Pascal, ha preso X e ha creato un pacchetto che forniva l'università. Questo codice non aveva restrizioni da parte di TNT perché era codice nuovo. Quindi apparteneva all'università della California. Quindi, tra una versione di Unix v5 e v6, crea la cosiddetta BSD, Berkeley System Distribution 1, che viene messa fuori nella 78, seguirà una Berkeley System Distribution 2 fra il 79 e l'80. A un certo punto a Berkeley arriva la nuovissima, la rivoluzionaria macchina di Digital, il VAX, il VAX 11780. Questa è una macchina che è per lo più compatibile, retrocompatibile col PDP-11. La differenza è che il VAX ha una Memory Management Unit, che il PDP-11 non aveva, e Unix non era stato scritto per una Memory Management Unit, era un sistema swap. E quindi loro scrivono, fanno le modifiche al kernel, a Berkeley, per farlo girare sui VAX e utilizzare la MMU. Bene, da questo momento Berkeley Unix comincerà a divergere sempre di più dalla codebase iniziale basata su Unix System 5 o System 6. Ci saranno altre versioni fino ad arrivare a BSD 4.2 nel 1983. Questi BSD potevano essere distribuiti unicamente a laboratori che avevano già una licenza AT&T, perché contenevano codice AT&T modificato dagli hacker di Berkeley. Un anno importante in questo quinquenni, abbiamo quasi finito, è il 1983. Succedono un sacco di cose nel 1983. La prima cosa è che esce BSD 4.2. BSD 4.2 è il primo sistema operativo Unix che ha supporto per il nuovo stack di protocollo TCP-IP. Avete mai sentito? Stava nascendo internet come la conosciamo oggi, nel 1983. Berkeley firma un contratto col DARPA per creare lo stack protocollare TCP-IP su Unix. Questo è un passo fondamentale, perché a questo punto tutte le università che avevano accesso a BSD 4.2 Avevano automaticamente uno stack TCP-IP a disposizione e potevano connettersi ad ARPANET. Alla late ARPANET, diciamo. Stava già diventando internet. Un'altra novità fondamentale del 1983 è che nasce Unix System 5. Nel 1982 AT&T può fare quello che vuole, per una serie di ragioni legali, e entrare nel mercato software, nel mercato dell'informatica, decide di trasformare Unix in un prodotto e lo chiama Unix System 5, o System V. Unix System 5 è un prodotto chiuso. Le licenze costano... la licenza binaria costa quattro volte tanto Unix V7. La licenza dei sorgenti costa nell'ordine di 20.000 o 30.000 dollari. Quindi è sicuramente un prodotto a tutti gli effetti. Questo cambia moltissimo. Questa mossa rischia di uccidere per sempre Unix. Nel 1983 nasce anche un altro progetto, il progetto GNU, o GNU, ad opera principalmente di Richard Stallman, che ha come obiettivo quello di riprodurre un sistema Unix che non abbia nessun codice AT&T, che sia liberamente distribuibile. Richard Stallman comincia dall'Assembler, poi il computatore e poi tutti gli utili di sistema. I cinque anni successivi rischiano, come dicevo, di distruggere completamente Unix. AT&T diventa molto aggressiva sul mercato Unix. Vuole standardizzare a tutti i costi tutte le versioni di Unix esistenti fino a quel momento e vuole standardizzarli a modo suo. Cioè uno standard che non sia condiviso, ma che venga da AT&T. E quindi Unix goes to war, ma è una guerra tra Unix. Non è una guerra di Unix contro qualcun'altro, è una guerra tra Unix. Questa è solo una parte di tutti i sistemi. Tutti i sistemi Unix mai nati, ma la maggior parte di questi sono nati tra il 1979 e la fine degli anni Ottanta. Questa è la quantità di diversi sistemi Unix che avevate in quel momento. Ogni produttore che riceveva i sorgenti di Unix metteva il suo brand sul nuovo prodotto e metteva delle incompatibilità, per cui avevate quattro o cinquecento diverse varietà di Unix. Alcuni sono molto più recenti, soltanto per dirvi che massa di informazioni significava Unix a metà degli anni Ottanta. Domanda per voi. Sapete quale di questi Unix vendette il maggior numero di licenze? Non ve lo aspettereste mai. Xenix. Xenix era uno Unix basato su System 5, creato da Microsoft. Vendette il maggior numero di licenze perché era uno Unix che girava sui sistemi 286 e 386. Quindi, appena furono disponibili, il modo più semplice per far girare Unix su questi sistemi era utilizzare Xenix o Winix o qualche altro di questi cloni, ma di fatto Xenix vendette una quantità abominevole di licenze. In termini monetari non è esattamente la stessa cosa perché c'erano altri producer che fecero molti più soldi, ma Microsoft era il più grosso licenser di Unix alla fine degli anni Ottanta. non l'avrebbe mai detto nessuno, anche perché poi successivamente cercò in svariati modi di uccidere qualunque cosa non venisse da Microsoft, ma comunque tant'è. Nel 1987 nasce anche un altro sistema Unix-like, che è Minix, creato da Andrew Tannenbaum, che allora all'università di Amsterdam, anche ora credo. non è un sistema che funziona alla stessa maniera di Unix, perché è un sistema microkernel, ma fornisce la stessa interfaccia di schiamate di sistema. Per questo è considerato Unix, perché potevate portare un programma scritto per Unix, ricompilarlo per questo sistema operativo per Minix, e avrebbe funzionato senza problemi. Quasi senza problemi, ma di fatto senza problemi. La cosa carina di Minix è che viene distribuito assieme al libro di Tannenbaum sui sistemi operativi, con tutto il codice sorgente. Il problema è che può essere utilizzato esclusivamente per scopi educativi. Altra cosa importante di questo quinquennio è che esce BSD NET 1. A Berkeley non avevano smesso di togliere codici AT&T. Continuarono. E continuarono fino al punto in cui si resero conto che la maggior parte del codice della Berkeley System Distribution non conteneva nessun codice AT&T. Kate Bostic e Kirk McKusick decidono di fare una vera e propria crociata e liberare PSD completamente. Perché era tutto codice sotto la leggita dell'Università della California. Non aveva niente a che vedere con AT&T. Si rendono conto che sono davvero vicini ad avere un sistema libero. E cominciarono alle Usenies Conference, che allora erano ogni sei mesi, a dichiarare, alla fine della conferenza, quale percentuale di BSD era libera da sistema AT&T. Cominciarono col 30%, arrivarono al 70% e ad un certo punto dissero BSD è 100% libero da codice AT&T. Tagliarono questo nastro e crearono BSD NET 1. Gli ultimi cinque anni, e poi parliamo dei restanti 25, nel 1991, agosto 1991, su Usenet, sul gruppo CompOS Minix, viene mandato questo post. Ad opera di un studente di informatica dell'Università di Helsinki. Quindi sapete che c'è? Da aprile scorso ho cominciato a lavorare su un clone di Minix. Sta funzionando, ho già portato la shell, ho portato il compilatore. Sarebbe carino se ci volete giocare, è a disposizione di tutti. E attenzione, lui dice, sì, non ha nessun codice Minix, ma non è portabile. E probabilmente non lo sarà mai. E probabilmente non supporterò niente se non dischi AT, perché è l'unica cosa che ho a disposizione. Nel giro di sei mesi si uniscono allo sviluppo di Linux circa un centinaio di sviluppatori da tutto il mondo. E comincia, o ricomincia, mi piace pensarla così, lo sviluppo di un sistema operativo libero così come era stato lasciato nel 1979 dagli hacker di Bell Labs. In una maniera totalmente diversa. Queste persone non sono nello stesso posto, non sono nello stesso ufficio, non hanno le stesse risorse, sono su internet, distribuiti, non sono a Berkeley, sono in tutto il mondo, riescono a collaborare utilizzando Usenet e riescono a costruire un sistema operativo che, per l'epoca, è assolutamente rivoluzionario. Nel frattempo, nel 1991, esce BSDNet2. La storia è un pochino complicata. Appena Berkeley disse siamo liberi da codice AT&T, AT&T li denunciò immediatamente. Gli disse non è vero, voi avete infranto il copyright AT&T in questo e in questo altro punto. La storia è molto complicata. Alla fine si dimostrò che su circa 5.000 file di BSDNet2 solo 11 avevano residui di codice AT&T. su circa 5.000 file, solo 11. Di Nett1. Sì, di Nett1, scusami. Mentre invece AT&T aveva incorporato codice BSD eliminando la licenza. Cioè come se fosse suo. La causa venne chiusa in maniera extra giudiziale e decisero che qualunque cosa avesse BSD a quel momento poteva essere distribuita. E così fecero. E in quell'anno, nel 1992, da BSDNet2 nacque il cosiddetto 386BSD, o Jolix, perché fu sviluppato da Bill Jolitz e da Lynn Jolitz, e dovettero riscrivere soltanto 10 file. Un sistema operativo sviluppato per VAX in C ebbe bisogno di avere modifiche soltanto a 10 file. Tala la potenza dell'astrazione che forniva C. E nel giro di un paio di mesi ebbero un sistema che funzionava su tutte le architetture 386. Il problema è che Bill e Lynn Jolitz erano molto lenti, per cui la comunità di utenti, che era ridiventata comunità di sviluppatori, decise di fare un fork e crearono prima NetBSD e poi FreeBSD. Nascono nello stesso anno a distanza di un paio di mesi. Un paio di mesi dopo, nel 1993 e nel 1994, nasce OpenBSD da un fork di NetBSD. La comunità di utenti è ridiventata comunità di sviluppatori, si è riappropriata del codice e ha continuato esattamente sulle stesse orme degli hacker di AT&T Bell Labs. Gli ultimi 25 anni, non è possibile fare storia degli ultimi 25 anni in maniera obiettiva, probabilmente dovremmo aspettare altri 25, ci arriveremo. Cos'è UNIX oggi? UNIX, in tutte le sue incarnazioni, è diventato il sistema operativo più utilizzato su smartphone e tablet. Il 97% degli smartphone e tablet ha un kernel UNIX o UNIX-like, che sia Android o iOS. Sono entrambi UNIX-like. Il 98% dei server Internet pubblici girano su sistemi operativi UNIX. Si pensa, ma non è un dato diffuso, che quasi il 100% dei server di infrastruttura, parliamo dei router di Internet, di fatto girano su sistemi UNIX. Comunque non meno del 95%. Tutti i mainframe girano su sistemi UNIX o derivati da UNIX. Anche Z, OS è un sistema derivato da UNIX. Tutti i super computer nella top 500 sono sistemi operativi UNIX. Segnatamente dal 2014 in poi sono tutti sistemi operativi Linux. Più del 35% dei sistemi embedded sono sistemi operativi UNIX. Purtroppo solo il 12%, se includiamo Mac OS X, sono sul desktop. UNIX-of-today, ovviamente Linux e tutte le sue distribuzioni. IBSD con cloni e fork vari. E poi alcuni altri UNIX che sono disponibili, per lo più questi come solo supporto. Solaris è morto qualche anno fa, ucciso in maniera assolutamente efficiente da Oracle. HPUX è stato abbandonato. Minix continua ad essere sviluppato da Tannenbaum e altri. OpenIndiana è un forco di OpenSolaris. Newherd è il sistema operativo incompleto per eccellenza. Mario resterà, comunque sarà lì anche per i prossimi 50 anni. Android e Macross. Ancora non finito. Ancora non finito, ma mai finito. Questa è una citazione di Dennis Fitch del 1999, che assolutamente per chiunque dica ah vabbè ma non sappiamo se UNIX e Linux hanno a che vedere con UNIX. Il creatore di UNIX dice, penso che il fenomeno di Linux sia assolutamente stupefacente. Ed è perché deriva così fortemente dalle basi che ha messo a disposizione UNIX. Cioè per lui Linux e i FreeBSD erano geneticamente UNIX. Perché per lui essere UNIX significava dare un'interfaccia di sistema che fosse di un certo tipo e seguire un certo tipo di principi. Neanche i FreeBSD sono geneticamente UNIX. Perché ormai il codice è privo di qualunque riferimento al codice AT&T. E la quote che mi piace di più è di questo tizio, che è Henry Spencer, è uno dei papà zii di Usenet, che dice chiunque non ha capito UNIX è condannato a reinventarlo in maniera assolutamente insoddisfacente. E questo è quanto. Grazie. Grazie. Grazie.